ciao a tutti sto sfruttando le ferie per fare qualche volo di test stasera vi porto alla spiaggia di Castelfusano un bel tramonto di inizio inverno oggi il 27 dicembre 2022 e la spiaggia libera di Castelfusano alcuni frequentatori e un piccolo drone un piccolo Phoenix 8mini che ha fatto qualche volo avanti e indietro così per provare la batteria fortunatamente la batteria funziona ancora oggi un volo continuo di moltissime riprese di oltre 22 minuti una cosa e alla fine del video vedete anche alcuni test delle modalità automatiche ho provato la modalità spiral quella dei voli intelligenti e la modalità one shot video droni e poi alla fine un ritorno a casa automatico con atterraggio con ricerca del landing pad bene buon divertimento mi raccomando tanti bei like se volete se vi piacciono questi contenuti iscrivetevi al canale e buona visione buon divertimento mi raccomando iscrivetevi al canale e buon divertimento mi raccomando Grazie per la visione 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 Grazie per la visione